E' una! Vai giù fino in fondo lì ma se sei fuori di cervello cazzo ma porca e perché c'è il sentiero con l'olio di basso si ma figa guardalo c'è una moto va giù perciò cane però tagliar da là tagliar da là la tagli non era mica sbagliata bisogna tagliarla la line cresta e scendere tutta bassa arrivi lì cazzo si si adesso viene su di là sicuro fa prima di noi ti dirò che non è che non mi dispiace tanto sai ma il problema è che non so come è di là e i piedi e i piedi